E poi volevo ricordare una cosa che prima è stata taciuta, io stesso mi ero dimenticato di dirla, segnalo agli illustri ospiti che in Italia spessissimo quando gli imputati sono più di due o tre, quando vengono giudicati in tribunale, vengono rinchiusi in una gabbia e questo è civile, è bello, è elegante, abbiamo qualcosa da invidiare all'Ungheria, le gabbie, ma li avete presenti le gabbie? Gli uomini, ho detto che quando non 50-70 non è vero, anche quando sono tre o quattro e quindi questo va bene, ti piacciono le gabbie? Bene, tenetevi le gabbie, ma non rompete i coglioni a Orban per questa cosa, che sarà anche lui nel suo paese, bastava che la ragazza non andasse rapicchiare nessuno che non sarebbe successo. In un lavoro, le feste mi fanno veramente male. Dice Feltri, anche noi con le gabbie dei nostri tribunali in passato, non è che abbiamo molto da insegnare a... No, però non si è mai visto un imputato con le catene, ecco, non si è mai visto. L'Abbias Corpus, siamo nel 1215. C'è visto, c'è visto, e vi ricordo che Tortora, quando fu ingiustamente arrestato, venne trascinato per strada con le manette. Qualche decennio fa... Anche questo è bello, elegante, va bene? No, non va bene, qualche decennio fa non è stato superato. Perché 10 anni fa cosa vuol dire? Sono secoli, secoli, secoli. È proibito adesso e comunque neanche Matteo Messina Denaro non si è mai visto in queste condizioni. Oggi è proibito. Stefano Bandecchi, buongiorno, Alternativa Popolare. Certo, non stava neanche in piedi. Buongiorno, Sindaco Bandecchi. Tutto bene, come sta? Per ora benissimo.